Ma perché ti dico subito, io quando ho fatto Pugno di dollari, subito dopo ho fatto per qualche dollare in più e ho finito con, chiamiamola la trilogia, con il buono, il brutto e il cattivo. Io dopo il buono, il brutto e il cattivo non avrei voluto fare più western, perché avevo chiuso quel tipo di leggenda, quel tipo di storia e avrei voluto fare, c'era una volta in America, il film che sto finendo adesso. Se non che, dato che i successi, ecco, tutti sono pronti a non perdonarli, mentre invece l'insuccesso sì, quando io andai in America, la prima cosa che mi dissero, lei ci faccia un altro western e dopo le facciamo fare, c'era una volta in America, ma per ora ci deve fare un altro western. E allora a questo punto nacque l'esigenza di fare un film che era completamente differente dagli altri, dagli altri tre. E nacque l'esigenza di una nuova trilogia che è nata proprio con c'era una volta in America, che sono i tre periodi che toccano l'America e le Americhe, se vogliamo. Grazie a tutti.